Non ho parlato con i frati perché io non parlo con uno di un fatto che lo può coinvolgere, che ne so io. E Don Arialdo, l'ex parroco di Caraffello, a smentire il fatto di essere stato a conoscenza dell'infatuazione di Guerrina Piscaia, la casalinga che manca da casa dal 1 maggio 2014 per padre Graziano e quindi di aver riportato questa notizia ai frati congolesi che si trovavano a Caraffello e dal vicario Gioacchino Dallara in occasione dell'incontro del 7 maggio proprio nella canonica del piccolo paese. Fu proprio dopo quel faccia a faccia tra religiosi che sul telefono di Giuseppina Mazzoni, la parrocchiana che in aula ha dichiarato di aver parlato al prete di quel sentimento, che arrivò un messaggio dal cellulare della donna scomparsa con su scritto, tu hai parlato male di un uomo di Dio. Io sono a Rimini, io per tutte le notizie le ho lette nei vostri giornali di Guerrina, me l'ha detto questa signora e poi dopo tutti gli sviluppi le ho lette nei giornali. È emerso non soltanto il dato che Don Arialdo non aveva mai riferito a che sia la diceria di una relazione, di un sentimento di padre Graziano con Guerrina, ma anche e soprattutto il fatto che la Mazzoni abbia detto a Don Arialdo la diceria e questo diciamo che sradica proprio a monte il tentativo di voler poi estendere alla volontà di padre Graziano la comunicazione del messaggio. Risulta incredibile questa situazione per il semplice fatto che appunto la testimonianza che avevamo sentito la scorsa udienza o due udienze fa, non mi ricordo, ci avevano appunto riferito che a Don Arialdo questa circostanza era nota. All'inizio ha detto, ha negato totalmente che appunto non era conoscenza di nessun chiacchiericcio, poi dopo invece alla fine ha fatto riferimento a un chiacchiericcio, quindi qualcosa sapeva. Il messaggio rimane, le caratteristiche di quel messaggio rimangono e ripeto, le valutazioni si fanno dopo. Ed in aula è entrato anche il PC di padre Graziano, o meglio la memoria del suo computer e di quello in possesso a padre Silvano, contenenti contenuti osè. Sul portatile di Grattien è stata infatti ritrovata la famosa foto della suora nuda ed in quello dell'altro religioso del materiale pornografico. Dal computer di padre Graziano non è uscito nulla, semmai qualcosa è entrato nel computer di padre Graziano Sono due foto, certamente non logiche in un computer di un sacerdote, deprecabili da questo punto di vista, ma minimamente non incidenti sul fatto di reato per il quale si sta procedendo. Trovare delle foto pornografiche in tutti e due i computer è una cosa che fa riflettere, soprattutto perché erano delle fotografie, quelle che ha ricevuto ovviamente all'abi di un soggetto, almeno sembrava una suora per come era vestita, quindi è abbastanza discutibile. Questo non lo fa un colpevole, ma sicuramente è un indizio che va ad aggiungersi ad altri indizi molto importanti.